Ora, in poche parole, in poche parole ci si ritrova davanti a questa immagine di Viego, no? Se clicchi, esce la rovina 3, 2, 1, ok? Ma, se clicchi sul dipinto di Viego e Isolde, cliccando sulla mano, E poi esce scritto, digita qui, e non ho la minima idea di cosa ho scritto, allora ho già portato a scrivere Isolde, no, Viego. No, Sentinelle, no, 1, 2, 3, 4, no, Ruination, non ci ho già provato, Ruination, niente. Se sei forte, sali, neanche questo. Jungle Diff, no, neanche. Demacia, no. First to Fall, no. Forse in italiano, primo a cadere. No. Carillon, Carillon, no. Nebbia, neanche. Re, re, no. Rovina, niente. Matrimonio, niente. Moglie, no. Regno, neanche. Tre. No. Tre numero? No. Provo che il nome del champion che dovrebbe uscire si chiama Action. Action. No. Luce? No. Gwen? Niente. Carillon, scritto così? Eh no, Carillon si scrive. Ditemi tutto quello che riguarda Viego, ragazzi. Amore, amore, amore. No. Passione. I soldi l'abbiamo già scritto? Oh, i toccarò. Bambola. No. Sentinelle l'ho già scritto. Sentinelle della luce. No, no, l'ho già scritto, l'ho già scritto. Rovina. Rovina l'ho già scritta, mi pare. Allora. Secondo me bisogna... Musica. Canzone. Ding, ding, ding. Tutti con questa cazzo di zonia. Allora, il fatto è che non so se devo scrivere in italiano o inglese. La moglie di Viego si chiama Isolde, ragazzi. Non so se devo scrivere in italiano o inglese. Questo è il problema. Cosa bisogna fare? Capire come andare avanti. Capire come andare avanti. Allora, secondo me... Secondo me fa per forza riferimento a... A questa immagine. Allora, cosa c'è in questa immagine? Viego e Isolde che ballano... Su un piedistallo. Formato da quattro... Petali. Demacia. No. Ballo. Morte. No. Ossessione. Ma non so se devo scrivere in italiano o in inglese. Questo è il problema. Pietricite. E in effetti... Pietricite. Petricite. Il nome dell'evento. Si chiama... Sentiments of Light. E però, vedi, è in inglese. Secondo me bisogna scrivere in inglese. Però c'è scritto digita qui. No, allora, è per forza qua. Cioè, è per forza qua. L'abbè, però, con Isolde... È praticamente la prima cosa che ho scritto. È per forza qua. Non può non essere qua. Perché se sei bravo vinci. Se sei forte sali, no? Magari lo spettrogramma di quel carriano scrive una parola. Sì, vabbè, mate. Ma tu veramente pensi che l'utente medio va a vedere lo spettrogramma? Sono dei disegni nello sfondo. Ma nello sfondo... Allora, raga, questa è la nebbia. Questa è la nebbia. Questa è la nebbia, sicuramente. Questa è un'ombra che non capisco cosa sia, ma... Incisione nel carrion. No, è crepato. Ma poi non mi sembra nemmeno questo il carrion. Cioè, è tutto crepato. Sembra fatto di pietricite. L'ho già scritto, carrion. Già scritto, carrion. Perché lo scrive così, vabbè. Carillon. L'ho già scritto. No! Se sei forte sali. No, neanche questo funziona. Che stai a diri, Spooky? Devo copiare quel numero? È questa. Non è vero. Non funziona. Il primo. Ma ho provato, non va. Non va. Perché? 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 Qual è il senso? No, di nuovo. No, di nuovo. Un'altra volta. Ma perché? Ma che senso ha? Ma uno... Come ci arrivi? Ma uno, come ci arriva? Ma uno, come fa a arrivarci? Ma veramente? È un trucco di GTA? Ma... Eh, vabbè, di nuovo. Welcome, Sentinel. Benvenuta, Sentinel. Ma che so, delle parole... Ah, ma quindi... Quindi si rivolge alle sentinelle. Quindi è una cosa rivolta alle sentinelle. Quindi quella roba cos'è? Un codice? E se mo' scrivo Action? Ma what? Ah... A parte che è bellissimo questa cosa, io voglio salvare assolutamente... Voglio assolutamente salvare questa immagine, perché è stupenda. Non posso salvare questa immagine. Vabbè, vaffanculo. Chi è questo qua? Chi è questo qua? Chi è questo? Il nuovo mid laner! È vero, c'è l'arpione! Ma chi è? Sandokan? Boom! Ragazzi. Nuovo mid laner. Boom! Eccolo qua. Questo è il nuovo mid laner. L'8 luglio. Quindi è una sentinella. Ma c'è anche Vayne. Vabbè, ovviamente se è nel Lucian Super Pro. Graves? Cazzo ci va a Graves? Ma è Graves questo. Sì, è Graves per... Ah, è... Sono Graves e... Sono Graves e Vayne con... Con le skin da sentinelle. Questo qua viene sicuramente da Shurima, 100%. Questo viene da Shurima tutta la vita. Sì, perfetto. Sembra il fatale di Samira, sì! Da cosa lo dici? Dai vestiti. Dai vestiti. Carino. Comunque non ha veramente senso... Non ha veramente senso come siamo arrivati qua. Cioè, qual è la logica? Qual è la logica di quegli otto? Qual è la logica di quegli otto? Comunque ragazzi, nuovo mid laner. Si vede dal trailer. Corda. Una specie di corda e l'arpioncino blu. Sì, Trash è qui... Non penso sia alleato suo. Non penso sia alleato. Perché è qua nel mezzo. Se fosse stato alleato sarebbe stato qua. Mi sa che... Viego non ha alleate, mi sa. È da solo. Da solo con un mucchio di non morti. Però è da solo. Ma quindi lui si chiama Akshan? Lui è Akshan ragazzi. E' da solo con un mucchio di non-mucchio di non-mucchio di non-mucchio. E' da solo con un mucchio di non-mucchio di non-mucchio.